Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Patrice e ti faremo un video Visto che oggi è la festa della mamma Facciamo un piccolo video Dove prepariamo un piccolo regalo Visto che dopo devo darglielo Ecco, alla fine del video La sfogliazione Ok, per ora ho già fatto questo 8 maggio, auguri mamma Ok Per chi non lo sapesse Visto che oggi è la festa di tutte le mamme Quindi auguri anche a tutte le mamme Voi vi starete chiedendo Ragazzi, ma come mai Sto facendo tutto di blu e di viola Perché sono i colori preferiti Ad esempio di mia mamma Invece voi ragazzi per vostra madre Magari potete fare diverso Quei loro colori preferiti A mia mamma piacciono questi colori qua Io lo faccio così Ok Come ho fatto questo cuore Non lo so nemmeno io Ma vabbè Ok, io direi che Forciata è brillina Non è male Poi dentro Magari potrei Tipo fare qualcosa di carino Tipo La scritta mamma In lettering Quindi Prendiamo l'azzur Ci provo Non sono bravissima Di fare il lettering Non so neanche se lo vedete Ok, sì, sì Penso che lì sì Non so come tenerla Aiuto Dopo ragazzi Faccio qualche video Anche con perletta Con perle Con pritti E magari anche con gli altri animali Dai Ok La scritta è carina Dai Non si chiudeva Poi voglio fare tipo Cioè Se no è bellina Però C'ho provato Ora La volevo ripassare Un pochettino Con il viola Tipo fare qualche Così ecco Non so che forse Non state neanche Vedendo tanto Non è male ragazzi Ma non è neanche bellissima Cioè Un pochettino Ho fatto un po' male Però Cioè ragazzi Meglio di così Non posso fare Che sono Che sono Che c'hanno Non lo so Perché Oggi Sono uscita tutta la matita Che mi sono un po' stanchina Allora Adesso Posso fare Tipo Non so che fare Potrei Scrivere Tipo Qualcosa Che le piace Tipo Tipo Bene Cosa Ok Scriviamo Ok Magari Che andiamo Col colore Un pochettino Un pochettino Un pochettino Un pochettino Com'è ragazzi A me piace Prima di consegnare Io ve lo faccio vedere tutto Allora Adesso Potrei fare Tipo Qualche cosa Qualche frase Carina Tipo Ti voglio bene Ma in piccolo Cioè Così Del genere Ecco Vi faccio Di tipo Cioè Ti E' sparso Da tutte Le parti Tipo Così Ho scritto In inglese Vabbè Ragazzi Adesso Scrivo Betta Se non Fa Così Dove ho sbagliato Ma io faccio Qualche Quellicino Ecco Di solito Per non far Vedere L'errore Perché Sono brutto E Scriviamo Ho scritto Ti Adesso Voglio Dappertutto Cioè Tipo Gli scrivo Voglio Così E Scriviamo Bene Non ti Mi Mi Sce Male La Ma Allora Ok Per me Ragazzi Carino Così Sparsi Sparsi Più L'ho fatto Opposto Vedete Poi Magari Faccio Qualche Follicina Lì In là Ecco Lì E là Lì ok io direi che ho finito ragazzi adesso prendo il telefono mi giro ecco qua ragazzi cioè questo è chiuso ok e questo è aperto a me piace veramente tanto andiamo a darlo non so se darlo ragazzi speriamo che non nota che sto registrando però penso che ce lo sai mettere con il mano quindi il pincelino ciao mamma dove stai? è il sogno devo fare attenzione alle porte mamma visto che oggi è la festa della mamma ti ricordi? guarda oh mamma mia ma c'è un topino qua che ha fatto un bigliettino a marmotta marmotta oh ciccio patatino marmotta questa è la parte più carina penso ti voglio tanto bene ti voglio tanto bene ti voglio bene ti voglio bene ti voglio bene trego trego